Si sono conclusi ieri i primi lavori di sistemazione della cavea del Lido in zona mare a Fano. Piccoli interventi per grandi risultati, ha affermato l'assessore Barbara Brunori, che ha elencato gli interventi eseguiti e quelli in programma, come l'installazione di nuove luci a LED a partire dal mese di maggio. Stiamo intervenendo sulla cavea del Lido con un'illuminazione scenografica di tipo architetturale che prevede, oltre che questo cambio vegetativo che abbiamo fatto in questi giorni, quindi sostituendo i pitospoli che erano diventati il ricettacolo di rifiuti, ma oscuravano anche questo bel vedere di cui la nostra città può fruire, l'abbiamo sostituiti con queste quattro palme. Al di sotto di ogni palma verranno messi due fari, proprio per dare questa illuminazione spinta verso l'alto. E l'illuminazione nuova, la suggestione di cui parlavo, prevederà anche tutta quella che l'ha passeggiata, il camminamento dalla parte di legno, ma anche sotto l'anfiteatro, a perimetro delle sedute, verrà messa un'illuminazione specifica. Dopodiché un'ulteriore illuminazione verrà fatta sul muro, che appunto andrà in profondità su quello che è l'anfiteatro, e verranno anche predisposti ai lati due fari, che naturalmente saranno a disposizione per i grandi eventi per illuminarla ancora più, perché parliamo di un'illuminazione romantica. Oltre questo riqualificheremo anche le sedute, quindi le quattro panchine esistenti verranno sostituite con delle panchine come quelle del molo, naturalmente con una modifica, che è quella che ho chiesto successivamente all'installazione, e quindi all'interno della seduta verranno messe delle listelle di legno. Nel frattempo i lavori di decoro urbano nella città non si sono fermati neanche durante la zona rossa, tra gli interventi la sistemazione delle isole ecologiche con i loro problemi di accessibilità in zona ex Matatoio e Via del Fiume e altri già in programma, ed infine il montaggio di nuovi pannelli informativi con la rimozione dei vecchi ammalorati e in alcuni casi distrutti. Per tutte quelle che sono le segnalazioni siamo a disposizione, abbiamo un numero a disposizione nel Comune di Fano che è l'887-219, al quale potete naturalmente rivolgere tutte quelle che sono gli stati di degrado. Cerchiamo di esserci anche perché davvero abbiamo bisogno di ricominciare ad uscire e trovare un luogo sempre più bello.